La gente di Duino deve rassicurarsi, noi siamo gente di pace, non siamo andati a Duino per fare moschee, pregare o fare chissà cosa, veramente la gente deve tranquillarsi. E' incredulo Amadou Fall di fronte alla grande polemica che si è sviluppata a Duino a seguito del possibile acquisto da parte della comunità senegalese di cui è segretario dell'edificio che fino a qualche anno fa ospitava il mobilificio Arcobaleno. Incredulo perché non si capacita delle motivazioni che stanno alla base dell'atteggiamento dei residenti. Non volevamo entrare così nella città di Duino, volevamo essere noi come gente per bene che lavora, parla con la gente e collabora. La mia storia personale ricalca quella di tantissimi membri della nostra comunità, sottolinea Fall, e come lui tutti sono perfettamente integrati. Qua sono da 33 anni, da 1984, ho studiato qua in queste università e sono laureato in ingegneria elettrica e sono un consulente in energia fotovoltaica e volica. E la presenza a Trieste dei senegalesi è sempre stata discreta, continua l'ingegnere, e non c'è mai stato alcun problema anche quando abbiamo organizzato incontri nazionali con oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutta Italia. Siamo lì vicino alla via di Nozetti, di fronte al sinagolo, e non mi ha mai creato problemi. Solo che dove siamo a Trieste è diventato un po' stretto. La perplessità di Amadou Fall riguardo all'atteggiamento dei residenti deriva soprattutto dal fatto che Duino ospita il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, per il quale sono passati fra l'altro tanti senegalesi, sia quali studenti, sia quali insegnanti. E l'acquisto dell'immobile verrà effettuato attraverso un mutuo che verrà pagato con fondi personali dei singoli membri della comunità. Siamo lavoratori onesti, nessuno ci ha finanziati, siamo noi, con i nostri soldi che vengono dalla banca. Quindi io non vedo perché noi privati, comprando da un privato, dobbiamo chiedere l'autorizzazione a qualcuno. Infine Fall tranquillizza ulteriormente i residenti a Duino che anche nel corso dell'assemblea di sabato scorso hanno paventato una sorta di invasione del territorio. Noi da lunedì a sabato mattina lavoriamo, l'unico giorno libero abbiamo la domenica e non saremo su 200 mai, non esiste. Saremo là una cinquantina per esagerare.